All'Arezzo Classic Motor, grande protagonista la Vespa, immancabile mezzo storico, siamo con il presidente del Vespa Club Arezzo. Quella della Vespa è una passione che non passa mai di moda? No, infatti noi come Vespa Club tutti gli anni organizziamo il nostro solito raduno il primo maggio, anche quest'anno lo riproporremo ai nostri Vespisti aretini e italiani, sempre il primo maggio come ho detto, per ricordare sempre l'amicizia che ricorda sempre la nostra Vespa. Quest'anno oltre al raduno organizziamo anche una cosa un po' più particolare che è una UDAX di 500 km che girerà tutta la nostra provincia con delle Vespe storiche, con dei piloti affermati in tutta Italia che sarà il 5, 6, 7 luglio. Qual è il modello più ricercato sul mercato? Allora innanzitutto diciamo dipende un po' dai gusti, nel senso se si parla di Vespa per le classiche girate domenicali, PX siamo la Vespa più classica, più comoda e più resistente che non dà mai problemi. Non che la Vespa dia problemi perché insomma Vespa è un calcio e via come si dice. Se poi si parla di collezionismo si va sulle Vespe ante anni 50 quindi i primi modelli o ultimamente sono abbastanza ricercate le SS, la Vespa Supersport 180, è uno dei modelli più in voga ultimamente. Poi ripeto dipende un po' anche dal gusto dell'appassionato.